ministro dopo la sosta si torna in campo come si è lavorato in questi giorni si è lavorato bene abbiamo lavorato bene direi anche benissimo abbiamo fatto dei buoni carichi di lavoro questa settimana invece abbiamo un pochettino scaricato il lavoro sperando che sicuramente no sperando sicuramente domani di entrare migliore dei modi ecco domani arriva uno scoltore in caccia di punti con una squadra che ha ottime individualità che me ci si aspetta un match aperto da parte nostra dobbiamo sfruttare le partite casalinghe perché abbiamo tre partite in casa una fuori per cui dobbiamo mantenere il distacco dalla terza cercare di iniziare subito questa fine questo fine campionato miglior dei modi dall'infermeria ci sono aggiornamenti no tranne pera siamo tutti a disposizione grazie a tutti